bene salve ragazzi da ElfoMax e continuiamo questa serie di video lezioni su 3ds Max cercando di introdurre un po' l'argomento paradossalmente spigoloso delle NURBS che cosa sono le NURBS? diciamo che il concetto delle NURBS fai prima a spiegarlo in maniante degli esempi che non verbalmente, che poi alla fine è una cosa semplicissima andate su wikipedia o digitate da google significato NURBS vi demanda wikipedia e wikipedia vi dice che non è altro che un acronimo di Non Uniform Ratational Basics Splines che è traducibile in spline razionali non uniformi definite da una base che significa? non sono altro nei NURBS che una generalizzazione delle curve B Spline e delle Bezier abbiamo visto quando abbiamo disegnato una linea in 3ds Max intanto è vero che c'è la possibilità di trasformare l'una in l'altra abbiamo visto che quando noi disegniamo una semplice linea abbiamo la possibilità di disegnarla in corner Smult o Bezier se ci mettiamo su Bezier Smult non sono altre delle linee che se ci mettiamo nella vista pianta clicchiamo in un punto poi clicchiamo in un altro punto vedete praticamente la curva successiva mi va a praticamente a deformare a modificare quella che ho creato precedentemente adattandola sotto una forma che è appunto definita come NORMS faccio l'esempio con la spline perchè in questo caso io se vado sempre dal mio pannello destro qui convert to NORMS io ho una NORMS l'unico vantaggio di trasformare questa forma in NORMS è quello di poter poi applicare una serie per così dire di azioni su questa curva che io ho disegnato se io sotto spline qua sempre nel pannello dove si trova le spline scendo la tendina e vado in curve NURMS ho la possibilità di disegnare sostanzialmente due tipi di curve che poi sono quelle che ci ritroveremo come sottogeno le point curve che io definisco una curva attraverso dei punti ho le cv curve attraverso dei punti di controllo vedete? il mio punto di controllo è questo però posso continuare a disegnare la mia spline se vado in modifica sotto il pannello posso trovare sia i punti di controllo che posso andare a spostarmi e quindi modificare la forma base o comunque mettermi sulla curva ma non più di tanto non posso andare per la sua modalità di costruzione a modificare dei punti che in realtà non esistono sono questi della sono questi di controllo e invece se io disegno una curva attraverso i punti ovviamente se mi metto nel pannello modifica ho la possibilità di modificare i punti ho la curva stessa in questo caso io posso andarmi a modificare i miei punti beh per questa parte introduttiva alle NURBS penso che sia tutto la prossima lezione cercheremo di entrare un po' nel vivo perché come dicevo precedentemente alcune cose tipo argomenti come le NURBS credo che sia molto più pratico effettuare subito un esercizio pratico appunto per spiegare le funzioni di questo di questo comunque potentissimo strumento quale che 3ds Max mette a disposizione e sono le NURBS quindi ci vediamo alla prossima lezione e vedremo di realizzare un esempio pratico e vedremo